C'è davvero tutta l'Italia qui a Torino all'Open Baladam Fest, scendiamo ancora nella penisola e arriviamo fino in Puglia per trovare birra nova. Qui con noi c'è Donato che è anche una conoscenza di C'è Fermento, un birraio che è arrivato fino a Torino per portare le sue birre. Ovviamente immaginiamo anche un saluto a tutti gli altri mastri birrai presenti con 160 birre e quindi anche le vostre. Sì sì assolutamente ho voluto essere qui presente proprio per dare merito a questa grande festa che te ho organizzato. Sono passati 20 anni di strada, credo se ne sia fatta, lo dimostra l'enormità dell'evento, tantissima gente anche ieri sera era pienissimo, era quasi difficile prendere da bere. Quindi anche oggi appena mezzogiorno c'è già tanta gente, quindi sono qui proprio per dare merito a questo grande movimento. Qual è la molla che fa scattare la voglia di diventare un produttore di birra? Tu hai avuto una passione o anche la conoscenza di altri birrifici che erano nati e da quanto tempo è attiva birra nova? Beh la molla è soprattutto la sete, facciamolo per scherzare no? In realtà come tutte le grandi passioni nascono da dentro e non sai neanche tu perché, quindi tutta una serie di situazioni che poi si sono messe insieme hanno fatto in modo che iniziassi questa grande avventura da birraio e sono contento della scelta fatta e credo che mi stia dando risultati. Bene, hanno voluto identificare qui a Torino i birrai con una particolare pina abbastanza vistosa, hai fatto qualche chiacchierata qua in questa giornata, in questi giorni. Sì, l'occasione è anche per incontrare tanti amici del nord che difficilmente abbiamo modo di fare, bellissima questa cosa della spilla per cui è facile identificarci e anche per noi è un orgoglio, a parte che ti fa bere gratis. Bene, quindi tanti motivi però bisogna essere produttori e ovviamente acquisire i meriti sul campo. Le birre che avete portato qua? Sì, qui abbiamo mandato tre tipologie, Linfa, Negra Mara Extra e Checkpoint, sono tre birre diverse fra loro, è rimasta poca roba, ho visto che c'erano già i bicchieri capovolti, quindi vuol dire che sono andate abbastanza bene, quindi siamo contenti. Sì, è stato un successo, grazie a Donato, grazie ovviamente a Birra Nuova e buona festa. Grazie a voi. Grazie a tutti.